Ragazzi non riusciamo neanche a battere l'ultima in classifica, non riusciamo nell'impresa di battere l'ultima in classifica. Padova-Triestina all'Euganeo 1-1, lì da loro al Nereo Rocco eravamo riusciti a vincere con un gol di Piovanello. All'Euganeo di Padova non riusciamo a battere la Triestina, la Triestina che sì, si è rinforzata durante il mercato, anche noi abbiamo fatto degli acquisti che ci siamo rinforzati, ho dei dubbi, visto che Germano ex della gara, ora la Triestina ha fatto una partita di Cristo e avercela noi, no, perché noi, a cosa ci serve Germano lì? No, non ci serve a niente, abbiamo Belli, abbiamo Belli che marca l'aria, non l'area, l'aria, l'aria e arriva il gol di Masi, Masi, non lo sentivo da dieci anni, stagione duemila, duemila, sì, duemila, ventidue, duemila dodici, duemila tredici, dieci anni fa, era la Ternana. Io me lo ricordo perché era un giovane di buone prospettive, aveva vent'anni e lo prendevo magari per delle carriere di FIFA, ma non sapevo che giocava la Triestina, ci ha segnato Alberto Masi. Alcuni mi fanno, ma Masi gioca ancora? Sì, c'ha solo trent'anni, cazzo, c'ha solo trent'anni e segna Masi. Noi abbiamo fatto un cazzo, imbarazzanti, imbarazzanti, siamo a più tre, forse, più quattro dalla zona play out e la Triestina è lì, lì, che si gioca all'ultimo, penultimo posto col Piacenza, è a quota ventitré, se non sbaglio. Una roba imbarazzante, il palo va a quota trentasei, siamo a sei punti dalla zona play out, però siamo più vicini alla zona play out. Continuiamo così ragazzi, perché è fantastica la società, ormai sappiamo in che mani siamo, Mirabelli che ci ha distrutto la squadra, la squadra che è una squadra che in questo girone sarebbe là, stata tranquilla al primo posto per andare in serie B, e invece siamo tipo al sedicesimo posto per andare in serie D. Abbiamo sbagliato consonante, non B ma D, D. Infatti ci stavamo preparando, probabilmente la Triestina andrà giù, a meno che non si sveglia, e rischiamo di andare giù anche noi, che così l'anno prossimo ci prepariamo a vedere Padova-Triestina, però in serie D e non in serie C, anche in questo caso sbagliamo la consonante. E che dire, se non ci regalano il pareggio loro con Matosevic, quando l'ho visto ho detto, ah è Matosevic, si è matto questo, si è andato a vuoto, e Filippo Dellicarri l'ha buttata dentro a porta vuoto, se non segnava nemmeno così il Padova, non so, andavo a buttarmi di sotto dal ponte di Ponte San Nicolò ragazzi, perché mi viene proprio una cosa che non si dovrebbe dire, ma mi viene proprio da ammazzarmi a vedere questa squadra, forse uno dei Padova peggiori che io abbia mai visto, peggio del Padova che è fallito, che è ripartito in serie D come Biancoscudati Padova, peggio del Biancoscudati Padova della prima stagione in serie D, peggio probabilmente no del Padova appena ritornato in serie B con Bisoli, che è arrivato lì penultimo in classifica, però siamo lì eh ragazzi, il problema è che la squadra c'è, c'era almeno, c'era, e invece adesso pochi giocatori si salvano, Donnarummo uno su quei, uno di questi, e magari Vasi, Celiguori, i soliti insomma, Bortolussi ancora non riesce a segnare, ed è il nostro in teoria Bomber, non abbiamo un Bomber, in realtà c'è Ravolo, chi si è visto proprio, De Marchi, manco che manco, e davvero non so cosa dire, se oggi non ci regalava Matosevic il gol, perdavamo, ed era ancora più il cazzato, siete fortunati che un gol l'abbiamo fatto, fortunati per le vostre orecchie perché sarei esploso malamente. Fatemi sapere la vostra, e ditemi se riusciremo a vincere una partita nei prossimi giorni, o se ufficialmente andremo in zona play out, cosa che secondo me succederà. L'ultima cosa, questa settimana ha parlato Joseph, ma non so il cognome, non so pronunciarlo, quindi per me da oggi sarà Beppino, Beppino ha parlato dicendo andremo in serie B, e in serie A io ci proverò, ci metterò all'impegno, ma forse non sa che dovrebbe dare a qualcun altro il comando della dirigenza, cioè via Mirabelli, via la Bianchi per favore, perché stanno smantellando la squadra e anche Torrente rischia, cioè ormai non riusciamo più a vincere. L'ultima vittoria, credo con la Propatria, che abbiamo vinto tra l'altro, bene, io non capisco com'è possibile che passiamo da vincere in trasferta 0-3 con la Propatria, pareggiare in trasferta con la Ferral Pissalò, pareggiare in trasferta con il Vicenza, pareggiare col Pordenone che in quel momento era capolista e l'abbiamo fermato, ma non riusciamo a battere la Triestina all'Euganeo, non riusciamo a battere la Pergolettese, sempre all'Euganeo, presi a pisellate in faccia 0-3, io non riesco a capire questa squadra. Ragazzi, io spero semplicemente che non si trasformino in una tragedia alla fine della stagione, spero a sto punto che non andiamo ai play-off, ma che rimaniamo lì e neanche in zona play-out, proprio a metà classifica, non so dove ci potrebbe stare una squadra come il Trento, il Trento, l'Arzignano va al chiampo, il Padova non puntava di certo a queste posizioni, ma a sto punto preferisco stare a metà classifica, ci teniamo la Serie C, va bene così, e ci pensiamo alla prossima stagione, se no andremo a giocare, che cazzo non so, col campo d'Arsego in Serie D, non lo so, davvero, fatemi sapere la vostra, iscrivetevi, mettete mi piace e ci vediamo presto per un prossimo video, sperando nei tre punti. Ciao a tutti ragazzi.